E' stato presentato al Palazzo di Città il forum delle associazioni di Castellabate, che raggruppa tutte le realtà associative che operano attivamente sul territorio comunale. Ad accogliere i rappresentanti delle associazioni nell'aula consigliare è stata l'amministrazione comunale con il sindaco Marco Rizzo. Castellabate ricorre il novecentesimo anno, quindi è un anno importante, tantissime gente che ci vedranno impegnati, quindi quale è la migliore occasione col forum di interagire su questi eventi. Insomma, sarà sicuramente un anno che sarà ricordato nel tempo. Quindi su questa cosa sono davvero contento, sono davvero orgoglioso stasera di poter dire che con questa amministrazione è nato anche il forum dell'associazione, cosa che da tempo si parlava probabilmente, ma questa sera la congredezza proprio da vedere tutte queste associazioni qui presenti nell'aula consigliare, insomma, la cosa mi riempie di gioia e di orgoglio. A spiegare le finalità del forum è stato il presidente Giovanni Pisciottano, dopo aver ricordato la figura di Arminio Tavola, stilista locale deceduto negli anni scorsi con cui era già stato avviato un percorso di creazione di un forum comunale delle associazioni. Promuovere un po' tutti gli eventi del calendario, di fare sinergia tra di noi associazioni, quindi fare rete, in modo da far crescere un po' tutte le manifestazioni, ma soprattutto promuovere, quindi il forum è anche un organo di promozione, di consulto, ma soprattutto di rappresentanza delle associazioni.